Qualche piccolo consiglio per coloro che vogliono provare a utilizzare social media a un livello leggermente superiore, perché sono convinto che iniziare ad usare social media sia molto semplice ed è importante che ciascuno di voi provi a fare i primi esperimenti molto più difficile e utilizzarlo a un livello un po' più avanzato. Inizierei con una domanda. Chi di voi sa programmare per alzata di mano? Se sapete programmare, potete nell'arco dell'anno programmare, per esempio se sapete fare un sito nell'arco dell'anno potete programmare tanti siti perché l'evoluzione del codice c'è ma non è così veloce da impedirvi di fare un nuovo sito. Quando però io lavoravo nel marketing di Procter & Gamble e Unilever e nel 2010 chiesi alla mia manager di poter dare i primi brief alle grandi agenzie di Unilever per capire come utilizzare social media a livello business. e al tempo capì che alcuni grandi gruppi stavano facendo fatica a dare delle risposte avanzate per un motivo molto chiaro, che i social media rispetto al resto del digital sono veramente in continua evoluzione, per cui sono facili da usare ma è difficile rimanere costantemente aggiornati sulle novità soprattutto considerando che sono convinto che il male del nostro tempo sia la fretta. Facciamo tutti troppe cose e quindi non riusciamo spesso a trovare il tempo di andare oltre ai titoli di alcuni aggiornamenti. Il fatto che poi abbia ripassato questi due giorni qui insieme alla famiglia di Marketers dimostra che trovate il tempo e anche le risorse per aggiornarvi. Quindi ho deciso, i social media quindi sono convinto che sia una rapida evoluzione ed è importante trovare sempre il tempo per aggiornarsi. Ho deciso dunque di licenziarmi da Unilever nel 2010 per provare a creare una piccola boutique di cui tra l'altro non dico mai il nome a rete, nessuno o quasi sa il nome della mia agenzia perché vorrei nel tempo creare del valore partendo però da un'idea. La mia idea è che i social media non sono la bacchetta magica con la quale risolvere i problemi di tutti i clienti in tutti i mercati. Sono convinto che i social media abbiano la loro massima espressione nei mercati dove è più facile generare la logica del passaparalo orizzontale. Cioè vengo dal mondo dei media tradizionali come la televisione, la televisione comunica dall'alto verso il basso. Se vuoi riuscire su social media a comunicare in maniera orizzontale generate quello che tecnicamente si chiama earned media, qualcun altro che parla di voi senza che voi l'abbiate incentivato. Quindi ho capito che i tre mercati dove è più facile ottenere un ritorno era il mondo dello sport, il mondo del fashion e il mondo dei personaggi pubblici. In questi anni abbiamo avuto il piacere di fare esperienze con diversi clienti. Abbiamo iniziato lanciando tutto il mondo il campionato mondiale Superbike, poi i pirelli, poi sono arrivati gli americani a Roma con la squadra di calcio e poi tanti altri esperimenti. Se avessero un più di tempo nella giornata probabilmente la dedicherei a altri progetti sportivi di educazione di cui parlerò più avanti. Oltre al mondo dello sport e anche la moda sta dando grandissime soddisfazioni. In particolare abbiamo avuto il piacere di lavorare con Fendi, Bulgari, Versace e partecipare anche ad alcune convention di Mont Blanc. Infine è cresciuto molto anche un tema dei personaggi pubblici con Fiorello, Brignano e tanti altri che non sto qui a citare. Però come si cresce per arrivare a lavorare su alcuni di questi tavoli? Avendo capito che i social media sono in continua evoluzione ho detto mi impegno a prendere meno clienti per assicurarmi di avere almeno due ore al giorno libere per potermi aggiornare su tutte le novità di questo mercato. Così appena c'è qualcosa di un po' più interessante, vedo magari un caso in America, provo a farlo mio e a proporlo anche ai miei clienti. E a questa logica delle due ore al giorno di aggiornamento ho provato a raggiungere un concetto di due esperienze l'anno di crescita personale che non siano legate al business. Quindi consiglio a tutti due volte l'anno di uscire dalla bolla dentro la quale tutti noi viviamo per vedere se magari c'è qualche altro trend che ci stiamo completamente perdendo. Con questa logica nel 2015 sono stato selezionato dalla Singularity University che si trova nel centro di cerca della NASA in America che studia proprio come le tecnologie cambieranno le nostre vite nei prossimi anni. E l'anno dopo abbiamo fatto un'altra esperienza con IVE presso Harvard, pure molto interessante. Ma perché vi sto parlando della NASA di Singularity? Semplicemente perché tutti i progetti più belli degli ultimi anni non sono mai nati dai brief dei clienti ma dalla voglia di sperimentare. Mi hanno fatto esperimenti non richiesti. Se mi avessero raccontato quello che sarebbe successo di sei mesi in sei mesi da quando mi sono licenziato probabilmente non ci avrei creduto. Ho preso una foto di un aeroplano di carta perché pensavo che quando lanci l'aeroplano tu non sai dove va. Ti può cascare su piedi o può fare due metri. E mi piace, lo vedo pure in molti di voi, l'adrenalina di quando ti rendi conto che ciò che hai lanciato è finito lontanissimo. Dario, Salvatore e tutti gli altri sono ottimi esempi di ragazzi che hanno provato a fare e poi quest'aereo ha veramente preso il volo. Vi faccio un esempio concreto. Nel 2011-2012 indirettamente in America ascolto una storia. Questa storia era Ashton Kutcher, un attore, che disse in America ormai gli attori a parità di bravura iniziano ad essere presi per il seguito che hanno sui social. Perché se siamo bravi uguali ma io ho 7, 8, 9 milioni di follower basta che faccio una foto che sto studiando il copione del film e ho fatto un piccolo avviamento del film. Quindi gli attori sono diventati media. Quindi essendo andato all'estero e avendo captato un qualcosa di interessante lo porto indietro nel mio mondo. Torno in Italia e dico perché nessuno sta facendo diventare gli atleti dei media? Siccome avevamo lanciato la Federazione Italiana Pallovolo ho avuto l'idea di proporre al Capitano della Nazionale Pallovolo, Gesca Piccinini, tramite la sua agenzia, la DAO, di gestire noi insieme il suo account durante i mondiali pallovolo. Per farla breve, quella campagna è diventata la campagna più virale di tutta Twitter in Italia a ottobre 2014, con dei numeri, se guardate i tweet, 10 volte superiori rispetto al mondo del calcio. Questa cosa è il classico esempio dell'aeroplanino che è volato più lontano di quanti pensassi, però ha aperto tantissime porte, perché una campagna così importante poi è finita, per esempio per due giorni consecutivi sulla Gazzetta dello Sport non avevo mai visto una doppia pagina con un titolo che era un hashtag. Questa copertina finisce sulla scrivania di un'importante persona del mondo del CONI che ci convoca, ci studia, ci dice voi chi siete, ci mette alla prova e nel tempo veramente lo devo ringraziare perché ci ha dato l'opportunità di sfidarci su tavoli sempre più importanti, come per esempio la gestione social dell'internazionale BNL d'Italia oppure la gestione social, sempre con il team del CONI, Annalisa De Luca, Diego Nepi, dell'Olimpiadi di Rio 2016 oppure quest'anno, ho vissuto un mese in Corea, a meno 24 gradi per un mese, è stato un po' impegnativo, per la gestione social delle Olimpiadi di Pyeongchang. Cosa voglio dirvi? Che non sarei mai arrivato alle Olimpiadi se non avessi fatto un test non richiesto? Quindi è il test non richiesto che poi mi ha aperto quella porta. Quel test è andato veramente molto bene, ma sembra una storia troppo positiva, per cui vorrei raccontare cosa c'è dietro. Quel test veramente nasce da un fallimento, perché quella campagna si chiamava Con le Azzurre, quindi se vuoi aiutarci pubblica una foto con qualcosa di azzurro per sostenere la nazionale, avevo fatto una campagna identica durante i mondiali di calcio in Brasile con Ciro Immobile tramite la GEA e la campagna si chiamava Con gli Azzurri. Quello che pensavo al tempo è che bastasse fare un tweet dall'account dell'attaccante della nazionale per fare un caso virale. In realtà no, anche perché la nazionale ha iniziato a perdere le partite, è uscita subito dal girone di qualificazione, Ciro Immobile ovviamente ha più difficoltà a comunicare con la GEA, quindi quella campagna è andata bene, ma non è andata benissimo. Nello stesso periodo però aveva avuto l'occasione di lavorare nella politica, che a me sinceramente, lo dico sempre, non piace, però per esempio il team di Renzi ci chiamò nel 2012 dicendo una frase che dicono tutti, abbiamo un team digital molto molto bravo, abbiamo un po' fatica a capire come gestire al meglio i social. Quindi in quel caso abbiamo fatto un'analisi professionale e Stena abbiamo dato una serie di consigli, proprio come team allargato, non gestivamo i suoi social. In quel momento però avevo capito una tecnica e la tecnica era, quando volevamo lanciare una campagna, tipo questa che vedete, è meglio 15 minuti di fila che aspettare altri 5 anni, avevo capito che quando si lancia una campagna su Twitter sarebbe meglio lanciarla tutti insieme in maniera coordinata. Si può creare un WhatsApp, un gruppo Facebook e definire l'ordine con cui tutti quanti le persone convolte lo possono lanciare. Quindi quando lanciamo la campagna con la Piccinini, dico guarda, io te la gestisco, ma prima ancora del lancio, assicurati di avere le foto di altri atleti, magari della tua agenzia, che lo rilanciano. Quindi siamo riusciti a superare quel limite tecnico oltre il quale Twitter ti fa diventare trending topic. Quindi non è stato solo un successo per la sua viralità, ma anche per come l'abbiamo costruita prima del lancio. Vi faccio un altro esempio concreto. Chi di voi conosce il Winner Taco, per alzata di mano? Ok, una cosa molto divertente è che sperimentando sono nati dei progetti abbastanza surreali come quello del Winner Taco. Cosa stavamo facendo noi? Stavamo lanciando sui social cornetto algida. Però spesso ai miei clienti dico guarda, permettimi, oltre al brief che tu mi hai dato, di proporti dei piccoli esperimenti. Al tempo, proposi al brand manager di Unilever Tommaso Vitali, facciamo un esperimento insieme. Secondo me stai comunicando in maniera molto forte a un target abbastanza preciso che sono i teenager. Prendiamo un 5% del budget, facciamo un esperimento. Abbiamo sviluppato la prima app su Facebook che permetteva di ricostruire i cartelloni storici da bar, dove tu potevi scegliere lo sfondo originale, il logo originale, i gelati originali. Era solo pensato per fare l'e-generation. Tu gioca, mi dai l'email col Facebook Connect, andiamo avanti. Era un puro esperimento con una parte marginale del budget. In quell'app riappare visivamente Winner Taco. È stato riscontornato, era pure abbastanza sgranato. Da quel momento 12.000 persone ci attaccano in maniera ironica sulla pagina di cornetto dicendo non mi interessa niente se non mi ridai Winner Taco. Quindi poi questo diventa il primo caso di prodotto al mondo rilanciato perché lo chiedevano i fan dei social. Quindi il significato di questo slide è che secondo me non esisterebbe oggi un prodotto in commercio come Winner Taco se non avessimo fatto un esperimento non richiesto. Quindi è sempre un po' la logica di prima. Ma per gestire i social media a un livello superiore cosa si può fare? Vorrei darvi qualche spunto concreto in questi ultimi minuti. Personalmente credo che chi fa il lavoro dell'agenzia avrà sempre un problema di scalabilità. Potete gestire 15 clienti, l'anno dopo non ne potrete mai gestire 150. Diventa veramente un problema. Per cui ho preferito la logica delle boutique. Avere una piccola società molto performante sui social, non su tutto il resto, piuttosto che quelle che io chiamo agenzia tritacarne che prendono tutti i brief e diventano un pochino schiava del fatturato e quindi poi perdono le performance. Per gestire al meglio il team, ho apprezzato molto anche la presentazione di Luca prima, ho ideato un grafico molto molto divertente dove se da un lato io metto i clienti in base al fatturato, chiedo al mio team di mettermi i clienti in base a quanto rompono le scatole. Sembra una cosa goliardica, ma vi assicuro che poi mi rendo conto quanto alcuni clienti pesano sul team, quanto influenzano sul loro umore e quindi regolarmente non rinnovo i clienti che sono nella parte critica del grafico. Quel tempo libero del cliente non rinnovato, anche la perdita di fatturato, è ampiamente compensata dai nuovi clienti che bussano ai quali facciamo un listino più alto, perché nel frattempo abbiamo fatto sei mesi o un anno di esperienza. Il consiglio che voglio darvi è che anche se volete iniziare a lavorare con dei clienti più piccoli, seppur molti di voi sono già a un livello particolarmente avanzato, fatevi dare sempre un budget ADV. Mi ha colpito tantissimo quello che ha detto Omar questa mattina. Omar ha detto addirittura il fioraglio non aveva soldi per l'ADV, glielo ho anticipato io. Quindi potete anche provare a chiedere pochi soldi a un ristorante, un hotel, una palestra, quindi prendete magari pochi soldi per voi, ma obbligatelo a mettere un budget ADV, perché solo spendendo imparerete le dinamiche. Dopo di me parlerà, credo, Francesco Agostinis, che ci spiega come con pochi soldi si moltiplicano le bufale, se non sbaglio, le bufale quelle buone da mangiare, e non le fake news. Ok, fatevi poi guidare tantissimo dei numeri. Quindi noi per esempio con Pirelli ci siamo fatti mettere in gara, abbiamo lanciato in tutto il mondo Pirelli la parte moto, non vediamo la parte di Formula 1, ma utilizzavamo tantissimi software per vedere se la piccola agenzia performava meglio degli altri. E così è stato. In questo caso Social Bakers ci diceva che la pagina aveva al tempo il massimo livello di engagement e la massima qualità dei contenuti. Così come quando gestivamo il budget media ci veniva certificato che la nostra efficienza pubblicitaria era di 50x, per cui se lavorate bene utilizzate anche software per dimostrarlo, in maniera tale che nelle società si rendano conto che la piccola realtà sta performando meglio dei grandi magari colossi. Tutto quello che facciamo non è orientato solo a creare contenuti per i brand e a divulgarli, ma anche una logica molto di crescita dell'azienda, da cui diciamo il background in Procter & Gamble che ti insegnavano a farti guidare dei numeri. Per esempio, nei due anni che abbiamo lavorato con la Roma, non per merito nostro, ma la Roma è finita su Forbes al nono posto per la capacità di generare reddito commerciale e social. Quindi la capacità proprio di crescere, di fatturato grazie anche social. Qualche ulteriore consiglio? Consiglio di lasciare sempre una scia positiva. Sembra una fesseria, ma impegnatevi a gestire solo progetti in cui riuscite veramente a lavorare bene. Se le cose non vanno, alzate per primi la mano. Non aspettate che il cliente vi riprenda. Ditele, guarda, io pensavo che questo sarebbe stata una buona strategia, adesso ti chiedo di fare un passo indietro fino ad arrivare magari a trovare anche qualche tipo di accordo se le cose non vanno. Per esempio, due anni fa, ho chiamato Amazon, tramite una persona che mi seguiva in rete, e mi sono sentito dire no. Ho detto, guarda, mi stai chiedendo qualcosa che è più grande di quello che io posso gestire in questa fase. Non è solo social, è digital. Si dice che spesso alcuni treni non ripassano più. Io sono convinto che è più importante non lavorare male su un cliente grosso e lasciare una scia positiva, piuttosto che farsi incolosire, guadagnare quell'anno e poi perdere incredibilità. Un altro consiglio è aiutate tutti quelli che potete, ma senza aspettarvi niente in cambio. Una serie di screenshot che state vedendo sono puramente casuali, cioè sono screenshot che mi sono apparsi mentre stavo facendo le slide. Non ho scelto il best of di quello che mi arriva. L'altro giorno un ragazzo mi ha detto, mi ha chiesto un consiglio su come incontrare Zanardi, poi mi ero quasi dimenticato il consiglio che gli avevo dato e alla fine mi ha detto Luca ti volevo incontrare perché con quella dritta che mi ha dato poi siamo riusciti a incontrarlo. E io sono contentissimo quando succedono queste cose, anche perché poi quella persona si ricorderà del tempo e si creerà una sinergia positiva. Prendete una posizione, se avete un'opinione che sia fondata, su un tema e non commentate solo per farvi vedere. Cioè esistono anche delle tecniche che uno commenta per farsi vedere e sono corrette, vanno bene. Però quando esprimete un parere in rete che sia veramente basato su un ragionamento, non andare a contraddire l'altro tanto per contraddirlo. Per esempio ho preso una posizione abbastanza chiara durante il matrimonio Chiara Ferragni-Fede cercando di spiegare alcune logiche se questi social media sono paragonabili in qualche modo alla televisione. In molti hanno provato a seguirmi nel ragionamento, qualcuno mi ha criticato, però mi sono arrivati tantissimi messaggi di persone che hanno apprezzato il modo in cui rispondevo in maniera educata a quello che mi diceva ma sei un cretino, ma sei un ragazzino, ma che casi studio hai? Io piuttosto che rispondere gli dicevo ok va bene allora argomenta meglio. Non sono un santo, io in media litigo con un paio di persone l'anno e quando litigo gliene dico, però in genere cerco di arginare il possibile per non avere problemi. Sono sicuro che se vi comportate così avrete un beneficio anche perché il mercato si rende conto di chi oltre a essere competente ma è anche serio non lo sto dicendo su di me ma ci sono persone molto competenti ma che poi perdono nella serietà nel modo in cui ti dicono le cose e non vi nego che ho avuto una bella soddisfazione perché lo dico a un po' stanna ma su una critica recente che mi è arrivata poi ho scoperto che quella singola persona che mi ha criticato si apriva l'inbox si rendeva conto che un grande player su un progetto a 5.0 aveva appena scelto noi invece che loro lui mi criticava senza neanche saperlo per cui sono convinto che poi il mercato e non ho voluto dirlo in rete in rete potevo dire controlla la inbox ho lasciato perdere però sono cose che comunque ti fanno capire che sei nella giusta strada io avrei finito però vi lascio con una riflessione volevo fare presto ieri però ieri ho fatto le 3 di mattina parlando con dei ragazzi che si occupano di un mondo completamente diverso rispetto al mio che è l'Afflet ho imparato tante cose però mi sono permesso di aggiungere giusto qualche slide al volissimo per lanciarvi un messaggio vedo tantissimi ragazzi in gamba molto molto giovani anche quindi avete già fatto tante cose rispetto a quelle che ho fatto io e il vero punto interrogativo è come mettere a sistema le vostre competenze quindi vi faccio vedere al volissimo un esempio di cosa è successo un paio d'anni fa era l'inverno del 2016 un ragazzo ha fatto un appello dicendo che servivano delle coperte per i senza tetto onestamente quell'appello l'ho ignorato perché era la vigilia di Natale e sentivo non sentivo quella causa mia perché avevo altre proprietà tipo comprare i regali di Natale però poi due settimane dopo vado a prendere la mia ragazza in stazione e sento siccome il treno fa tardi e quel giorno le temperature calano a 10 gradi sento il freddo nelle ossa quindi quando ho letto un secondo post le coperte che cercava Alberto sono da Ikea mi si è attivato qualcosa in testa e ho detto io ho un buono di Ikea di qualche centinaio di euro ho freddo vorrei aiutare quindi la mia ragazza scende dal treno e dice amore perdonami sono due settimane non ci vediamo ti vorrei portare da Ikea sembrava una trappola sembrava una trappola però siamo andati veramente da Ikea ora il messaggio che volevo passare è che ci hanno cresciuti ci hanno educato dicendoci che la vera beneficenza si fa in silenzio ne sono convinto però secondo me se i social li utilizziamo bene possiamo generare un effetto moltiplicatore che è molto molto positivo quindi compriamo le coperte e dico la mia ragazza secondo te conviene che faccio una foto delle coperte e la pubblico in rete dicendo se qualcuno vuole aiutare commenti e poi compriamo le coperte tutti insieme lei mi disse guarda secondo me è un po' rischioso io ho risposto guarda proviamo se poi mi riempiono insulti la cancello pubblichiamo la foto e siccome era venerdì sera se qualcuno avesse fatto un bonifico l'avrei visto lunedì mattina quindi ho creato un google form in cui tu dovevi mettere nome e cognome e quante coperte ti impegnavi a comprare per farla breve per tre giorni consecutivi abbiamo completamente svuotato Ikea Ikea se ne è accorto queste sono tutte le foto di Ikea svuotato addirittura c'è uno studente che ha incontrato un cast che mi ha detto mi ha dato la voglia di uscire di casa e comprare io le coperte abbiamo documentato tutto ovviamente in rete le spese per essere sintetico Ikea ci chiama ci dice ho visto questa campagna ci è piaciuto talmente tanto ti doniamo 10.000 euro in coperte fanne ciò che puoi io gli dissi ok grazie vi ringrazio ne sto parlando io con tanta enfasi ma in realtà è stato un gioco di squadra per cui veramente vorrei dare merito a tutti voi anche che avete seguito questo caso sinteticamente quello che vi dico ho voluto dare anche un segnale concreto alle onlus che è stato quello quando devi fare un'attività falla velocemente non ho voluto dare le coperte a una sola onlus ma ho chiesto Ikea me le smisti in sei città in cui ha Ikea sì non c'è problema ciascuna città ho messo in competizione onlus le do alla prima che va a nome mio e si impegna a distribuirle quindi praticamente queste sono tutte le città Milano l'ha presa la Croce Rossa Torino Sant'Egidio Padova una signora col camper che è arrivata presto quello che è successo di inaspettato no veramente quello che è successo di inaspettato mi dicono al sesto giorno dalla foto vieni a Torino che c'è una sorpresa la sorpresa era Paolo Di Bala e i turbe che hanno detto abbiamo visto la causa ti vogliamo aiutare è stato un momento critico perché poi si finisce in televisione diventa un caso internazionale finiamo anche all'estero quindi rischia di diventare tutto per farsi belli e non per la causa però la cosa positiva è stata che poi sono arrivate centinaia di altri prodotti e di capi proprio nel momento in cui c'è stato il terremoto in Italia quindi avendo fatto una cosa non richiesta ci siamo trovati pieni di prodotti che sono serviti poi agli italiani quando la Croce Rossa li ha ospitati nelle palestre e avevano freddo io con questo chiudo ma il segnale che volevo dare è che sui tavoli su cui state lavorando anche la affiliate ieri mi hanno spiegato molte cose anche della parte black mettete a disposizione le vostre competenze per i temi positivi sono facilissimi da prendere le scorciatoie ma vi assicuro che i social è molto meglio utilizzarli quando fate queste attività che non altre che mi avete raccontato per cui vi volevo lasciare con questo invito io chiedo scusa se ho preso qualche minuto in più ma ieri sera mi sono fatto prendere e ho aggiunto qualche slide alla grande grazie Luca grazie a presto ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti